Di fronte alla tragedia della morte dobbiamo fermarci e recuperare il senso del limite. Cui protest? Di fronte alla tragedia della morte dobbiamo fermarci e recuperare il senso del limite. A chi giova è quello che ci chiediamo, trascorsi pochi giorni dal tragico pomeriggio dell'Epifania, innanzitutto come semplici lettori. Come lettori è vero che si nutrono di informazione, ma non certo affamati di quella cronaca, non tutta per fortuna, che trascende, che cede alla tentazione di alimentare l'opinione pubblica, somministrando notizie inopportune che nulla hanno a che fare con la notizia in sé in questo caso, un'autentica tragedia consumatasi ancora una volta sulla strada statale 106, sì, la famigerata strada della morte. A chi giova, a chi può interessare a poche ore da un dramma che ha distrutto quattro famiglie, se i ragazzi che viaggiavano nella Panda in direzione Catanzaro Soverato erano meno reduci da una visita in carcere? A chi giova la dovizia di particolari sulla genologia di famiglia? Quattro giovani hanno perso la vita su una strada maledetta, una tragedia che testimonia la forza dell'indifferenza anche di fronte al valore della vita. L'ennesimo tributo di sangue che non troverà consolazione alcuna. È forse utile, alla giusta causa, quella di rendere più sicura questa strada, documentare i rapporti di parentela e i dati biografici? È veramente importante, al cospetto della morte, il richiamo ai legami familiari che ciascuno di noi porta in dote? Questi dettagli debbono ritenersi necessari per l'esercizio del diritto di cronaca su un episodio così tragico? Conoscere i nomi e le parentele delle vite spezzate può cambiare la prospettiva dell'accaduto, o piuttosto si riduce in un eccesso di informazione inopportuno, decentrato proprio perché è orientato semplicemente e soddisfare eventuali curiosità morbose di chi legge e quindi ad alimentare la soglia degli utenti? Non è in discussione, sia chiaro, il piano deontologico che non compete a noi. Del pari ben conosciamo il fondamentale ruolo dell'informazione e il delicato e difficile compito dei giornalisti chiamati a divulgare le notizie di cronaca. Eppure abbiamo avvertito, non solo noi in queste ore, un richiamo della coscienza che ci impone di sollevare un doveroso problema di opportunità. Di fronte alla morte così tragica e dolorosa, a giovani vite spezzate in modo violento e drammatico, dovremmo avvertire il bisogno di fermarci e recuperare il senso del limite, un'ecologia dell'informazione che renda consapevoli dei diritti fondamentali della persona, di ogni persona, tutti meritevoli di essere salvaguardati. Ispirarci a criteri di correttezza, continenza e pertinenza delle notizie date, senza trascendere in eccessi bulimici che si scontrano con il buonsenso, prima ancora che con altri diritti, parimenti meritevoli di tutela. Sono in considerazione i punti di vista che desideriamo offrire alla regione pubblica e alla riflessione collettiva. Il dato, certo da portare in emersione nella triste vicenda consumatesi nel giorno dell'Epifania, era uno solo. Questi quattro giovani, figli della nostra terra e della nostra storia, non dovevano lasciare su quel manto stradale le loro speranze e i loro sogni. La nota del Consiglio Direttivo Camera Penale, Alfredo Cantafora. Violenza sessuale a scuola su bimba di 6 anni, arrestato Bidello nel Reggino. Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 6 anni e l'accusa che ha portato agli arresti domiciliari un collaboratore scolastico a emettere il provvedimento nei suoi confronti eseguito dai carabinieri il Tribunale di Palmi su richiesta della Procura. Secondo la denuncia formalizzata dai carabinieri di Cinque Frondi, la violenza sarebbe venuta a scuola. La piccola aveva raggiunto l'uomo, un 60enne originario della provincia di Reggio Calabria, in una stanza per una fotocopia che le aveva chiesto la maestra. Lui, approfittando del fatto che erano soli, avrebbe costretto la bambina a subire atti sessuali. Tornata in classe, la bimba non si era confidata né con gli insegnanti né con i compagni. Era riuscita invece ad aprirsi con la mamma, alla quale ha raccontato nel dettaglio quello che le aveva fatto l'uomo. La rapida attivazione del Codice Rosso, applicato tempestivamente ed intesa, e con il coordinamento della Procura di Palmi, ha consentito ai militari dell'arma di procedere agli accertamenti in pochi giorni. Una volta acquisita la testimonianza della bambina, la presenza di una psicologa nominata da IPM, hanno concluso in brevissimo tempo l'attività di indagine. Processo Bergamini, confronto tra periti su esiti autopsie. È ripreso in corte d'assise a Cosenza il processo a carico di Isabella Internò, accusata di omicidio volontario in concorso per la morte dell'ex fidanzato, donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capospulico. Al banco dei testimoni il professore Francesco Maria Avato, che ha eseguito a gennaio del 1990 la prima autopsia su delega della Procura di Castrovillari, dopo che erano emersi i primi dubbi sulla tesi del suicidio. Confermo la mia perizia dell'epoca, ha detto Avato, anche perché non ho elementi per modificare quanto scrissi. Quando ebbi l'incarico non mi fu data nessuna informazione sulla dinamica dell'incidente. A mio giudizio, l'asfissia polmonare fu conseguente all'emorragia. Il PM Luca Primicerio ha chiesto un confronto tra i periti che hanno effettuato nel tempo le autopsie e i consulenti nominati dalle parti. La Corte ha ammesso il confronto tra gli esperti Francesco Avato, Vittorio Fineschi, Roberto Testi e Margherita Neri, in merito ad alcune contraddizioni emerse nelle varie testimonianze sulla natura dell'asfissia evidenziata nelle autopsie del corpo di Bergamini. La prima autopsia sul corpo del giocatore, nato ad Argenta, fu fatta dopo 50 giorni dalla morte, la seconda a distanza di 27 anni. Tra i dubbi da chiarire, la validità della gliforina e le cause dell'asfissia evidenziata nelle autopsie. Per Avato, il soffocamento è riconducibile allo schiacciamento a seguito del sormontamento del camion, avvenuto quando Bergamini era ancora vivo, perché ci fu l'emorragia. Per i consulenti, Fineschi e Testi, si tratta di asfissia non compatibile con l'impatto, ma avvenuta meccanicamente, secondo quanto dimostrano i dati morfologici. Secondo l'avvocato Fabio Anselmo, legale della parte civile, il confronto ha evidenziato una differenza generazionale molto marcata tra i tempi in cui ha lavorato Avato, che aveva pochi elementi, come detto da lui stesso, e i tempi in cui lavoravano tutti gli altri. L'età biologica ha la sua valenza. Oggi, la maggior parte dei casi italiani, quando c'è dubbio, vengono risolti con la glicoforina. Il processo è stato poi aggiornato al 25 gennaio. Due donne aggredite da un pitbull nel Cosentino, una è grave. Una donna di 75 anni e la figlia sono rimaste ferite, l'anziana in modo grave dopo essere stata aggredite da un pitbull, è successo ad Acqua Formosa, comune della provincia di Cosenza. L'animale, regolarmente detenuto e datato di microchip, secondo quanto emerso, ha spezzato la catena che lo legava e si è avventato contro le due donne che erano entrate nella proprietà di un loro parente per fargli visita. La 75enne ha riportato delle ferite alla testa, con la lacerazione di parte del cuoio capelluto e all'orecchio sinistro, mentre la figlia, che si è scagliata contro il cane nel tentativo di liberare la madre, è rimasta ferita in modo lieve ad una mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che immediatamente hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato in un'area nelle vicinanze del luogo, dove è accaduto il fatto. La 75enne è stata soccorsa e trasportata nell'ospedale di Cosenza, dove è ricoverata. I militari della compagnia di Castrovillari hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'esemplare di Pitbull, da quanto si è appreso, è stato sottoposto a quarantena sanitaria da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Progetto Wolf Next, l'interazione tra lupo e volpe ripresa in Aspromonte. Continuano le attività di monitoraggio sul lupo all'interno del Parco Nazionale della Spromonte, grazie al progetto Wolf Next, parchi a sistema per il futuro del lupo in Italia, in cui sono coinvolti 17 parchi nazionali. Un team di zoologi dell'associazione GECO è infatti impegnato da inizio 2023 in attività di fototrappolaggio, snow tracking, wolf hauling e raccolta dei campioni biologici finalizzata alle indagini genetiche. In questi frammenti video si mostra l'interazione tra un lupo e una volpe. La ripresa del concitato momento rendono noto è stata possibile grazie a una fototrappola dell'associazione Med Ambiente, gruppo Aspro Trek, di Marina di Gioiosa Ionica, che opportunamente formata partecipa in forma volontaria ad alcune attività del progetto. Non ci resta che aspettare la prima neve, che permetterà al gruppo di lavoro di effettuare lo snow tracking, un metodo di campionamento non invasivo che esegue le impronte dei lupi sulla neve, tracciando i loro spostamenti. Monitorare il lupo all'interno delle aree protette, ricordano, è l'obiettivo principale del progetto Wolf Next, parchi a sistema per il futuro del lupo in Italia, che vede coinvolto il Parco Nazionale della Spromonte e altri 16 parchi italiani in attività volte alla salvaguardia della specie. Il progetto Wolf Next, parchi a sistema per il futuro del lupo in Italia, avrà la durata di due anni. False importazioni di veicoli per invalidi, sequestrato 85 minicar a Gioia Tauro. Venivano dichiarati come scooter elettrici per invalidi, usufruendo così delle agevolazioni su IVA e dazi doganali previste dalla legge, ma in realtà si trattava di veicoli a quattro ruote del tipo di normali minicar. 85 di questi mezzi, stipati all'interno di 6 container, per un valore dichiarato di 179.258 euro, sono stati sequestrati a seguito di oggetto di un controllo da parte dei funzionari del reparto verifiche e controlli dell'ufficio delle dogane di Gioia Tauro. I prodotti di importazione provenienti dalla Cina venivano fraudolentemente spacciati come scooter elettrici per invalidi, in modo da poter beneficiare delle aliquote ridotte. I mezzi per invalidi, invece, necessitano di particolari requisiti tecnici previsti da quadro normativo di riferimento, ossia essere progettati appositamente per il trasporto di persone con disabilità e presentare elementi ed accessori speciali destinati ad agevolare la mobilità. Proprio allo scopo di accertare la presenza delle caratteristiche richieste, i funzionari hanno eseguito un controllo documentale e successivamente la verifica fisica della merce in questione, constatando che si trattava di minicarro utilizzabili da chiunque. A seguito di questo accertamento, l'ufficio locale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto alla rettifica della dichiarazione di importazione, riclassificando l'intera partita ed applicando per intero il Dazio al 10% e l'IVA al 22%, con conseguente recupero dei maggiori diritti accertati e riscossi pari a oltre 54 mila euro. Inoltre ha applicato una sanzione che va da 30 mila euro fino a 10 volte l'importo dei maggiori diritti accertati. Inchiesta alibbante, TAR raccoglie ricorso avvocato Giunti, Ministero lo risarcisca. Il TAR della Valle d'Aosta ha condannato il Ministero dell'Interno a risarcire con 6 mila euro l'avvocato Andrea Gino Giunti. La somma si riferisce al danno che il legale del foro di Aosta, secondo il Tribunale amministrativo regionale, ha patito dopo essere stato raggiunto dall'interdittiva antimafia emessa due anni fa dalla questura di Aosta. Lo stesso TAR infatti aveva poi annullato il provvedimento alcuni mesi dopo, nell'ottobre del 2022, perché nella normativa non è presente il riferimento all'adozione di informazioni interdittive nei confronti di persone fisiche non imprenditori. Questa sentenza non impugnata e poi diventata definitiva era stata la regione Valle d'Aosta a richiedere il rilascio della comunicazione antimafia, dopo che nel 2020 Giunti aveva ottenuto un contributo regionale a compensazione delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza pandemica da Covid-19. Dalle verifiche della questura era poi emerso che Giunti, come la moglie, l'avvocata Maria Rita Bagalà, era stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta libante contro l'andrangheta condotta dalla DDA di Catanzaro. Il TAR della Valle d'Aosta ha accolto il ricorso di Giunti assistito dall'avvocato Ebert Derin. Non vi è dubbio, secondo i giudici amministrativi, che il provvedimento adottato dall'amministrazione sia legittimo e che dallo stesso il ricorrente abbia subito un pregiudizio correlato proprio all'interdizione della possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione e dunque anche di assumere incarichi in favore di enti pubblici per tutto il periodo di efficacia della misura adottata dalla questura di Aosta. Per la quantificazione del danno, il TAR ha tenuto conto del reddito documentato nell'anno precedente all'interdittiva, limitatamente alle commesse pubbliche ricevute, e del fatto che il principio di rotazione nelle commesse pubbliche rende quanto meno aleatoria la possibilità di ottenere gli stessi incarichi pubblici ogni anno. Presunta corruzione, tornano a DDA atti inchiesta su ex giudice Petrini. Il Tribunale di Salerno ha accolto l'eccezione di nullità di alcuni atti presentata dall'avvocato Francesco Calderaro, difensore di Marco Petrini, già giudice attualmente sospeso della Corte d'Appello di Catanzaro, disponendo la restituzione alla DDA degli atti dell'inchiesta sul magistrato in attesa di una nuova richiesta di rinvio a giudizio. Petrini è accusato di corruzione in atti giudiziari, aggravata dal metodo mafioso, in concorso con un imprenditore, Rocco Delfino, e con l'avvocato ed ex senatore di Forza Italia, Giancarlo Pittelli, a carico dei quali la DDA di Salerno ha deciso di procedere separatamente. Secondo l'accusa, Pittelli, in qualità di difensore di Delfino e in accordo con lo stesso imprenditore, avrebbe promesso al giudice Petrini che avrebbe accettato una somma di denaro non meglio quantificata in cambio della revoca del provvedimento di confisca dei beni di Delfino, che sarebbe stato legato alla cosca di Indrangheta, Molepi Romalli. Secondo quanto è emerso dalle indagini, l'imprenditore sarebbe stato disposto ad investire la somma di 10.000 euro per la revoca della confisca dei suoi beni. La somma sarebbe stata consegnata dopo la pronuncia favorevole del giudice. Un accordo corruttivo che però, secondo la DDA di Salerno, non si sarebbe concretizzato in seguito all'arresto di Pittelli il 19 dicembre del 2019, nell'ambito dell'operazione rinascita Scott condotta dalla DDA di Catanzaro. Accusati di concussione, chiesto giudizio immediato per due legali arrestati ad ottobre. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il giudizio immediato per i due avvocati, Pierpaolo Greco e Pasquale Barbieri, arrestati ad ottobre con l'ipotesi di accusa di concussione. La vicenda è legata alla liquidazione giudiziale, in cui lo scorso luglio è stata posta a Fondazione Betania. Il primo è commissario liquidatore, il secondo avvocato della stessa. L'inchiesta risale ad ottobre, quando i due legali sono stati arrestati e a una denuncia presentata da Marco Zummo, amministratore delegato della subentrante Carol Betania, che aveva denunciato alla Guardia di Finanza una richiesta di 50.000 euro da parte dei due nei suoi confronti. Tutto ciò per dar seguito a un accordo aggiunto tra le parti per il mantenimento in vita della struttura e dei livelli occupazionali. Cosenza, sorpreso in casa con droga e armi, arrestato un 36enne. Continuano incessanti i servizi straordinari disposti dal questore della provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, mirati al controllo di quei soggetti sottoposti alla misura coercitiva degli obblighi di legge. Il personale della squadra volante ha tratto in arresto un pluripregiudicato 36enne con al suo carico precedenti penali in materia di stupefacenti e reati contro la persona, poiché trovato in possesso all'interno della sua abitazione, oltre di una pistola revolver calibro 38 con relativo munizionamento, anche di alcune dosi di hashish e cocaina e materiale per il confezionamento e pesatura della sostanza. L'uomo sottoposto alla misura agli arresti domiciliari al termine delle attività di rito è stato tratto in arresto per i reati di ricettazione, detenzione illegale di arma e detenzione di sostanza stupefacente. Ulteriori accertamenti sono in corso, volti in particolare ad appurare la provenienza illecita della pistola e delle munizioni. Aveva allestito Marchetti di droga in casa, un arresto nel Crotonese. Un uomo incensurato, ma noto come assuntore di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Crotone con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nell'ambito di un servizio svolto congiuntamente con i colleghi del reparto prevenzione criminale di Cosenza, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo che è stato trovato in possesso di 1,3 kg di marijuana divisa in diverse confezioni, 15 g di cocaina, 33 g di hashish e anche 3,5 g di sostanza stupefacente sintetica rara e molto costosa del tipo fenitelammina, trovata per la prima volta in città. Inoltre sono stati trovati oltre 12.000 euro in banconote di vario taglio assieme a due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ambulatorio malattie del fegato all'ospedale di Soverato, 90 i pazienti trapiantati seguiti nell'unità operativa. Tra tanti problemi che affliggono la sanità in Calabria esistono anche esempi di buona sanità che devono essere evidenziati rappresentando uno strumento di stimolo per altre attività disponibili a tendere al raggiungimento di standard di rilievo nazionale. È il caso, affermano in una nota dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, della struttura complessa di medicina interna del presidio ospedaliero Basso Dionio di Soverato che da oltre un anno ha attivato l'ambulatorio di malattie del fegato. Ha avviato percorsi coordinari e complessi nell'ambito della selezione e del follow-up del trapianto di fegato, raffigurando appunto un esempio di buona sanità. In questo breve periodo di tempo, informano, la medicina interna è rapidamente divenuta un centro di riferimento per questa complessa tipologia di pazienti, ottenendo preziosa collaborazione da parte del laboratorio analisi e della radiologia dello stesso nosocomio. Attualmente sono 90 i portatori di fegato trapiantato stabilmente, seguiti presso l'unità operativa. Alcune decine hanno iniziato il bilancio pre-trapianto e molti altri sono in lista d'attesa. Il reparto di degenza ordinaria ha accolto, trattando con successo, un paziente con rigetto acuto e un altro con una grave riattivazione di malattia citomegalica. Il laboratorio analisi sostiene l'attività attraverso il puntuale monitoraggio dei farmaci antidigetto, la sierologia e la biologia molecolare, microbiologica. Il servizio di radiologia si è reso disponibile all'attività di monitoraggio strumentale del neo-fegato, all'effettuazione degli esami previsti dal bilancio pre-trapianto e alla collaborazione nelle numerose problematiche emergenti nel trattamento degli intercorrenti problemi complessi. Negli ultimi due mesi, cinque calabresi sono stati sottoposti a trapianto presso il centro trapianti dell'AOU Città della Salute dell'Ospedale Molinette di Torino, con cui è maturato un prevalente rapporto di collaborazione. Sempre negli ultimi mesi sono stati inviati per essere seguiti in sede pazienti trapiantati a Padova, Bergamo, Pisa e Milano. La provenienza geografica degli ultimi cinque trapiantati, Zagarise, Sella Marina, Carlopoli, Isola Caporizzuto, Cosenza, testimonia, prosegue la nota, la capacità attrattiva della realtà che si sta concretizzando nel nostro territorio in quest'ultimo anno. È infine necessario rimarcare due aspetti di grande valenza sociale, la dedizione professionale ed umana dimostrata da tutto il personale del presidio ospedaliero di Soverato e la solidarietà tra i pazienti sottoposti a trapianto o che sono in attesa, che condividono ansie e problematiche critiche correlate al difficile percorso, configurando un mirabile esempio di auto mutuo aiuto. Obiettivo secondario, ma di importanza non indifferente in questo momento storico, è il vantaggio erariale costituito dalla riduzione della mobilità passiva per i controlli post-trapianto, che si converte ovviamente in una riduzione di disagi per intere famiglie. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Medico argentino, soccorre cittadino a San Lucido, encomio del sindaco. Il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, ha rivolto pubblicamente un encomio a un giovane medico, Juan Ignacio Nogueras, di nazionalità argentina, ma residente nel centro del Cosentino, che sta attendendo di ricevere la cittadinanza italiana per aver soccorso e salvato da morte certa, e detto in una nota del Comune, un cittadino. Un'azione di elevato valore civile e di grande altruismo, ha scritto il sindaco De Tommaso al giovane medico, che deve essere presa d'esempio in virtù dei valori di solidarietà e senso civico, sui cui si fonda la nostra Repubblica. L'intervento del giovane medico, si aggiunge nel comunicato, è stato provvidenziale per salvare la vita di un uomo colpito da improvviso malore, mentre si trovava in pieno centro. Juan, accortisi di quello che stava accadendo ed in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, si è adoperato senza indugi, infatti per prestare soccorso al malcapitato, e con lucidità e grande professionalità, è riuscito di fatto a salvargli la vita. Il primo cittadino, nel corso della cerimonia di consegna dell'encomio, svoltasi in Comune, ha espresso a Juan Ignacio Nogueras il proprio apprezzamento e profonda gratitudine per il suo atto eroico e disinteressato. Al concittadino che si è sentito male, ha detto ancora il sindaco, rivolgo gli auguri di pronta guarigione. So che le sue condizioni di salute adesso sono buone e non possiamo che esserne contenti. San Lucido, si afferma ancora nella nota, ospita già da qualche tempo molti argentini e sudamericani, ormai integratisi perfettamente nel tessuto sociale ed economico della città. Torre a Ravaschiera a Satriano, il destino è ancora tutto da scrivere. Ancora da definire il destino della Torre Ravaschiera a Satriano, nei giorni scorsi il sindaco Massimiliano Chiaravallotti e la soprintendente Stefania Argenti hanno avuto dei contatti telefonici, anche grazie all'interessamento alla questione da parte di Pino Soriero, ex parlamentare e presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Con Argenti e Soriero, ha riferito il sindaco di Satriano, abbiamo discusso della problematica Torre Ravaschiera e di tutte le iniziative che sono attualmente in corso e che eventualmente potrebbero essere intraprese a breve. Inoltre, ha aggiunto Chiaravallotti, sono in attesa di una specifica documentazione da parte della soprintendenza relativa a una richiesta di finanziamento riguardante Torre Ravaschiera, presentata dalla stessa soprintendenza al Ministero e avvenuto a seguito di contatti avuti due anni fa con l'allora soprintendente. Al momento, ha spiegato il primo cittadino, potenzialmente ci sono più spazi di manovra, ma ovviamente, essendo un bene privato, qualsiasi iniziativa alternativa all'esproprio della Torre passa dalla buona volontà dei proprietari di salvaguardare il bene, mettendo da parte l'aspetto economico. Ad ogni modo, ha annunciato Chiaravallotti, ci sarà un incontro in presenza direttamente con la soprintendente Argenti, ancora da definire, ma probabilmente a fine mese. Insomma, qualcosa si muove, ma bisognerà attendere al fine del mese in corso per capire se gli spazi di manovra a cui ha accennato il sindaco siano o meno sufficienti a valorizzare il bene architettonico. È chiaro, come ha sottolineato lo stesso Chiaravallotti, che molto dipende dalla volontà delle proprietarie, essendo la Torre un bene privato in alternativa all'esproprio. Un iter ritenuto quasi inevitabile da parte di associazioni, come Italia Nostra, che da anni ha a cuore la Torre Ravaschiera, soprattutto alla luce delle condizioni di degrado in cui verse il bene, e che da anni chiede che venga messa in sicurezza e valorizzata, perché potrebbe rappresentare una risorsa culturale e turistica di notevole rilevanza. Mal tempo, smottamento sulla statale 18, anno c'era, avviati interventi di ripristino. Anas ha avviato gli interventi di ripristino strutturale lungo la statale 18, a tirrene inferiore anno geraterinese, dopo che nella giornata dell'8 gennaio il tratto era stato interessato dal crollo di una parte della statale, a causa delle forti mareggiate. Il tratto, in forma anas, è temporaneamente interdetto al transito dei mezzi pesanti, superiore alle 3,5 tonnellate, in entrambe le direzioni, in via precauzionale per consentire l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, tra il chilometro 350 e il chilometro 360. Problema al motore e traghetto, urta massicciata del porto a Villa San Giovanni, nessun ferito. Era appena partita, ma è tornata di nuovo in porto per un problema al motore e quanto accaduto questa mattina la nave traghetto telepass in partenza alle 8.40 dal porto di Villa San Giovanni e diretta a Messina. Non appena lasciato l'ormeggio, la nave traghetto della Garonte Turist è stata costretta a tornare indietro, verso la costa calabrese, essendo stato riscontrato un problema al motore. Nel rientrare in porto, la nave ha impattato lievemente con la massicciata del porticciolo di Villa San Giovanni, senza però provocare particolari danni. Non ci sono stati danni nei rischi per le persone e mezzi che sono stati trasferiti su un'altra nave. L'equipaggio, infatti, ha prontamente gestito la situazione. I passeggeri hanno dunque atteso i tempi tecnici di manovra e sono stati trasbordati su un'altra nave che li ha condotti regolarmente a Messina. La nave telepass rimarrà ferma nelle prossime ore per le relative verifiche. L'Associazione Incrociamenti contro le pale eoliche nel Parco delle Serre, giù le mani dai nostri tesori. L'Associazione Incrociamenti sostiene senza esitazione la presa di posizione del commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre, di contrasto al progetto di un enorme parco eolico nell'area del Parco delle Serre. Secondo quanto spiega l'Associazione, il progetto comprende 43 aerogeneratori di robusta potenza e coinvolge diversi comuni del Vibonese, oltre che Torre di Ruggero, situato nella provincia di Catanzaro. In verità, l'Associazione Incrociamenti, già dalla primavera dell'anno scorso, a seguito di un'escursione programmata sul sentiero Serra Badolato, osservando ad occhio nudo dall'alto di Elce della Vecchia, aveva segnalato lo squarcio inquietante della vallata, provocato dall'installazione di 23 pale eoliche, avvenuta, come preso dopo, da almeno 15 anni nelle vallate della Lacina, da San Sostene a Brognaturo, la cui invasività raggiunge ovunque e chiunque anche gli ipovedenti, che non fanno fatica a scorgere le masse enormi di metallo che sovrastano le piante secolari fino a farle scomparire, sporcando irremediabilmente le nostre bellezze naturali. E tutto questo sostiene il suo dalizio nell'indifferenza generale delle istituzioni, degli enti preposti alla tutela e alla salvaguardia, di un estimabile bene comune, dei sindaci e dei cittadini ignari. Questa, affermano i rappresentanti dell'Associazione, la nostra denuncia apparsa tra le righe di un racconto di una giornata straordinaria, trascorsa nell'incanto del verde e nel fascino della biodiversità, presenti lungo il percorso, solo appannata da quella scoperta sgradevole che ci ha tanto indignati e che ci ha spinto a stigmatizzare un andazzo perverso. Come dire che la mano malvagia dell'uomo sottrae la magnificenza delle bellezze che ci ha regalato la natura. Gli esponenti di incrociamenti precisano di non opporsi alla produzione di energia eolica, ma a condizione che vada nella direzione di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, senza arbitrio da una parte e senza pregiudizi dall'altra, comunque in applicazione rigorosa di regole condivise e di comportamenti inequivocabilmente legali e trasparenti. Così come con altrettanta determinazione aggiungono, non ci arrendiamo a questo ennesimo atto di prepotenza dall'esito scontato, in nome del progresso e dell'energia alternativa si consolidano gli affari di consorterie spregiudicate e si deturpa inesorabilmente l'ambiente, compromettendo il suo naturale equilibrio e vanificando ogni speranza di sviluppo per questo territorio e per tutti gli altri sottoposti al cinismo del liberismo sfrenato e senza regole. A loro avviso è giunto il momento di unire le forze, tutte le forze del mondo dell'associazionismo, al mondo della politica sana, delle forze sociali e sindacali, della Chiesa, delle istituzioni locali e sovracomunali, per difendere un diritto primario che è quello di esistere e di potere restare in un ambiente integro, ancora capace di accogliere, dove vi sia assoluta compatibilità tra progresso e conservazione delle cose belle. C'è inoltre un appello ai titolari istituzionali della tutela ambientale, rendete fruibile l'enorme patrimonio naturalistico, abbiate cura dei sentieri, sostenete le iniziative escursionistiche, come la nostra, perché noi siamo i veri custodi della montagna. E poi aprite gli armadi delle informazioni e delle conoscenze, perché le battaglie di civiltà devono essere condivise e perché le popolazioni devono essere consapevoli del futuro cui andranno incontro i loro figli. Solo così, e la conclusione, saremo tutti più forti, con la speranza di correggere progetti tanto faraonici quanto penalizzanti per la comunità e di centrare gli obiettivi di uno sviluppo davvero sostenibile. Fatelo presto, prima che sia troppo tardi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.